Il festival veneziano è maggiorenne, di questa manifestazione che è pur sempre la prima vogliamo offrirvi una visione inedita, dei premi, della folla, del coro, degli smoking bianchi e neri tolti dalla naftalina, tutto dovrà funzionare nonostante gli imprevisti d'ogni genere. Mazzarella e Bersani affrontano l'angoscia di giornate senza respiro, in funzione a Venezia oggetto di meraviglia dei tecnici, l'unità mobile per la stampa degli originali TecniRama della Technicolor Società Italiana. I produttori come Angelo Rizzoli possono così vedere quotidianamente il materiale girato, senza grossi patemi d'animo e senza sorprese dolorose finali. Gli attori, quelli veri, arrivano senza battaggio pubblicitario. Per loro parlano i film, Gabriele Ferzetti è a Lido con la moglie, ma che garbo, che misura, che arte da parte di Peter Eustinov. Tutto è possibile al festival, pochi hanno riconosciuto a Betsy Blair, la rivelazione di Marty, l'interprete eccezionale di Caglie Macor. Il cinema italiano è ben rappresentato quest'anno alla mostra veneziana. I delfini di Maselli, Adua e le compagne di Pietrangeli, Rocco e i suoi fratelli di Visconti. Un leone è in attesa di essere consegnato al vincitore. E vinca il migliore!